Domani è il 30 dell'anno 21 e io, lo dico chiaramente a tutti voi, mi aspetto grandi cose domani. Io ho sempre visto il Signore intervenire all'ultimo giorno, proprio quando sembra che tutto il tempo dell'attesa è trascorso in vano, e quest'anno è un anno particolare per quanto riguarda Saronno. Saronno è la comunità pastorale del risorto e quest'anno in particolare è stato restaurato quel crocefisso che poi è trasportato per le strade di Saronno quando c'è la festa del trasporto. Ci sono tutti gli indizi che riguardano me per quella funzione di servo del Signore che io vogli essere quando nel lontano ormai 1973 buttai tutte le mie reti sul Signore e vogli dar corpo, il mio, all'ideale di Cristo che viaggiasse avendo un corpo reale sul quale camminare. In conseguenza di questa scelta, io dopo il periodo intero, unitario del tempo, che nella nostra realtà è dato dal ciclo di dieci anni e che vede nello spazio-tempo unitario la presenza di dieci più cinque, dopo quindici anni io volontariamente feci come Cristo che si rivolge a Gerusalemme e va incontro al suo calvario. Io pure ebbi il mio calvario. Dopo ho iniziato un momento tutto particolare in cui, a mio avviso, dopo che il Signore mi diede tutta la testimonianza possibile e immaginabile di un favore estremo concesso a me e nelle forme più tangibili di 300 cambiali protestate che potevano essere purgate solo in cinque giorni di purgatorio, io per tutte le volte le vidi purgate con interventi miracolosi, inattesi, che puntualmente vennero l'ultimo giorno a dimostrazione del fatto che io avevo buttato tutte le mie reti, ma chi interveniva era proprio il Signore. Ora questo è l'anno di mio padre. Il mio padre terrestre, Luigi Amodeo, è nel segno del Padre Celeste, di Dio. Luigi Amodeo, l'am, è chi? È l'amec in Bibbia. È il padre di Noè. E Noè è il romano, è come terza sillaba di quel romano che distrugge Roma ed è quel Pietro romano che toglie di mezzo Roma nella profezia di San Malachia. Ecco, quest'anno in cui sta per cessare l'anno 21, in cui con relazione a mio padre, nato il 7, 7 del 7, questo è l'anno suo, ecco, arrivati a un giorno dal termine siamo in quella condizione particolare di un anno intero di 365,25 meno un giorno, il che diventa 364, che è esattamente 26 uguale Dio per 52, che è come per 52 settimane. Dunque, io domani mi aspetto grandi cose e vi dico per quali ragioni ora e ve le faccio vedere qui per iscritto. Ecco, premetto che oggi, che manca un giorno a questo giorno qui, io compio quello che doveva accadere e che non era ancora accaduto ed era fondamentale che accadesse. Io alle ore 2 del pomeriggio compio la mia terza vaccinazione, la mia terza dose e io che vedo nel vaccino la difesa contro questa reale piaga che è la guerra mondiale che accompagna l'uscita di scena del somaro di Dio, ecco, questo vaccino nella terza dose era fondamentale proprio per me che abito in via Trieste numero 1 a Saronno e lo vedete perfino nell'alloggio Triest è, è trino come un romano est, Triest, ma è anche come italiano per cui Trieste già ve lo indica che è Trieste numero 1. Ebbene, questo numero 1 doveva avere la terza dose del vaccino. Va cicci in ognuno e salvalo. Tutti coloro che non vogliono fare il vaccino perché hanno paura per la loro pelle sono simili a persone che se ne infischiano della salute degli altri, sono talmente egoisti in buona fede e devono trovare in buona fede questa testimonianza che soccorre l'uomo nel mondo intero proprio in difesa di questa strage degli innocenti. Ebbene, veniamo dunque a che cosa succede quando finalmente anche io ho fatto il mio terzo atto in questo vaccino. Tra poche ore vi sto parlando alle 12 e tra due ore ciò accadrà. Ora, io domani sono a 1374 giorni esatti dalla morte di me, Pietro Romano, morte, il 2025 nel mese 10 e nel giorno 4 che è il San Francesco in anno santo. Sì, il 2025 è un anno santo, il quale numero di 1374 se è trasceso e è visto con un modo che lo riferisce alla fine si ribalta in 4731, in cui 47 è proprio il valore di Amodeo, ma sono 100, ossia il lato della realtà, più 4631 che in anni sono quelli che si riferiscono perfino alla fine del mondo. E' la fine dell'asino, del Signore Re di questo mondo. Se ne andrà. Ebbene, dal 26 gennaio del 38, data di nascita di Romano Modeo, di Ra, che in Ra è 16 più 1 uguale a 10 più 7, fino al 30 dicembre dell'anno 21, 364 giorno dell'anno 2000, più 7 più 7 più 7, che in 7 più 7 più 7 è l'avvento di mio padre, segno del mio padre celeste, valore che nel 364 è non più il Ra 16 più 1, ma il 16 più 10, ossia che ha compiuto il ciclo intero per 10 e si moltiplica per tutto il moto 7 di 7. Anche quel 10 lo possiamo scomporre in 7 più 3, o se volete 3 più 7, dopodiché diventa il 16 più 3 più 7 per 7 più 7. E vedete che il riferimento intero è proprio fatto con riferimento a mio padre. La differenza che passa e che sono i giorni della mia vita domani contempla 83 anni, 11 mesi e 4 giorni, che nell'83 sono l'anno in cui Lamm è chi ascese, Lamm, Luigi Amodeo, è chi ascese, ed è Lamech in Bibbia, il padre di Noè, e negli 11 mesi e nei 4 giorni è compreso il 114 che è Pietro Romano, che in Romano è 66, in PTR è uguale al 48, uguale Gesù. E dunque 114 è Romano più Gesù, uguale a Pietro Romano. E in questa descrizione un po' mista, che mette insieme tempi diversi come gli anni, i mesi e i giorni, abbiamo appunto negli anni l'anno santo speciale, fatto speciale, anno santo dello Spirito Santo dal Papa Giovanni Paolo II, che non aveva nulla di particolare in questo anno 83 per farlo anno santo particolare dello Spirito Santo, ma lo fece. E fu l'anno in cui Lamech ascese in cielo, in un modo proprio legato papale-papale all'arrivo del Papa a Milano, perché il Papa Voitiva era stato fatto Papa e non era ancora venuto ufficialmente a Milano. Era atteso a Milano e il giorno in cui era atteso io ero tutto entusiasta che arrivasse il Papa a Milano. Quella mattina, quella dell'arrivo del Papa a Milano, mi telefonò mamma, Corri Romano, papà sta male. E io corsi nel palazzo di Fronte e c'era mio padre raggomitolato come se fosse nel grembo materno. Era proprio tutto raccolto in se stesso e paralizzato. Lo accompagnammo con la lettiga all'ospedale e prima di scioglierlo da quella forma in cui egli palesava proprio di essere lì, in un grembo che lo portasse in cielo come se fosse nella pancia di una mamma, fu messo finalmente steso sul letto e rimase a fare una via crucis esatta di 14 giorni di paralisi finché ascese in cielo, nel modo proprio di quelle che sono nella Chiesa Cattolica le stazioni della via crucis e l'Amec, papà mio, ascese in cielo proprio secondo le stazioni della via crucis di Gesù. Ebbene, quando andiamo adesso finalmente a vedere le differenze che esistono tutte in una sola unità fatta di giorni, ecco che i giorni diventano 30.654 e sono quelli della mia vita che ho domani. A cosa corrispondono? Corrispondono a 30.000 e 30.000 poiché la realtà intera è 10.000 e 3 volte 10.000, ossia è tutto lo spazio della realtà in quel 30.000 e a ciò si aggiungono 66 decine, ossia 660 giorni meno 6 giorni che sono anche meno 66 undicesimi. e 66 è importante perché è il valore numerico del mio primo nome romano, quindi nel segno proprio del mio primo nome romano, a tutta la realtà che è 3.000, 30.000 in giorni, a tutta la realtà nello spazio, si aggiunge tutto il ciclo 10 divino del nome 66 di romano che lo porta a 660, nel quale esistono 66 undicesimi, ossia il valore dello stesso romano diviso per tutta la presenza 1 del dio 10. e quando 66 si divide per 11 risulta intero in 6. Ecco, c'è il cammino di 6 in 66 per 10 e quindi, come capite bene, c'è tutto quanto il moto di 66 undicesimi nel ciclo intero per 10 nel nome di romano. e quindi quando io vi dico che domani è compiuto da me un tempo esatto e intero in tutto questo, lo riferisco e posso riferirlo anche al mio anno 84esimo compiuto. 84, riferito al 100, è tutto il moto della carica 16 della realtà in 100 perché 100-16 è uguale a 84 e dunque tutta la carica 16, quella della r di ra, tutta, si compie in 100 anni meno 16, in 84, ma domani mancano rispetto agli 84 anni compiuti esattamente i 26 giorni uguali a Dio, uguali a Anna, per cui domani mancano appunto 26 a 84 e 26 è tutto quanto il percorso della realtà perché 26 indica tutto il flusso 6 di un piano i cui due lati generatori sono 10 e 10, sono quel 10 e 10 che se si moltiplicano danno luogo all'area 100, altrimenti sono 20 in lunghezza e quando questo 20 in lunghezza avanza di 6 va davanti e dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto, andando da tutte quante le parti e per questo vale come Dio, perché Dio va da tutte le parti, perché 7 è il giorno di Dio, perché quando considerate che l'uomo va davanti e indietro, a destra e a sinistra, sopra e sotto e usa il percorso soltanto che gli è consentito dal sistema dei tre assi cartesiani, bisogna aggiungere un signore che come un lato obliquo sia tutti i possibili lati obliqui che si aggiungono ai sei del sistema a tre dimensioni rette. Dunque, come vedete, il settimo giorno di Dio è quello che quando si aggiunge al ciclo 10 costituisce il nome di Ra che in Egitto era il Dio del Sole e che in questo valore di 17 è proprio quel valore che si riferisce alla carica 16 che esiste realmente, ossia nel tempo di Uno e tutto questo è ciò che porta come segno a quello che accadrà a me domani. Questa è la mia lettura, la mia lettura è sempre possibilmente lacunosa perché io non so se sono compiuti con ciò tutti i gesti che Dio desidera compiere quando finalmente si decide di farsi riconoscere in me perché se domani accade quello che io vi dico voi mi riconoscerete nel servo del Signore ma se non accade significa che il Signore deve ancora e vuole ancora che passino delle giornate a indicare cose ancora più intere e complete in relazione alla vita reale del suo povero servo.